ragazzuoli ragazzuoli buongiorno a tutti e bentrovati in questo nuovo video dall'azzurro malato intanto lasciate like mi raccomando commentate questo video e iscrivetevi se non fossi ancora iscritti allora 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 che dite parliamo un pochino di queste partite la partita di venerdì e le altre tre di ieri sera perché non ho non ho avuto non ho avuto tempo ieri sera ce n'erano due alle 6 torino dinese la sera lazio verona alle 13 del crotone poi venerdì sera c'era sassuolo benevento quindi l'anticipo quindi non avendo avuto tempo ragazzi ne parlo brevemente adesso allora partiamo da sassuolo benevento ragazzi so sassuolo che si porta a casa altri tre punti veramente importanti ma come se ne portati questi tre punti ragazzi dopo l'espulsione il benevento ha dominato addirittura ha fatto 30 tiri che poi la cosa se ne ha fatto 4 in porta ma posso dire una cosa ragazzi consigli quanto cazzo è forte addirittura ha avuto il benevento 3 4 palle gol e consigli ha fatto dei miracoli dei miracoli guardando l'andamento della partita ragazzi il benevento meritava assolutamente il pareggio però quello che conta è il risultato senza se senza ma un sassuolo che nel primo tempo ha giocato bene meglio rispetto al secondo poi l'espulsione ragazzi si è fatta si è fatta sentire perché giustamente quando sei sotto di un uomo poi trovi difficoltà a fare la partita e infatti è stato proprio così ragazzi il benevento che ha attaccato per tutto il tempo e non è riuscito a fare gol grazie ad un super consigli il sassuolo vince 1 a 0 con un calcio di rigore di berardi 1 a 0 e poi finisce lì ragazzi alla fine ripeto una una vittoria del sassuolo non strameritata sicuramente sì nel primo tempo ha fatto vedere qualcosina ma nel secondo un po meno e scusate stava cascando il telefono e quindi però alla fine ragazzi quello che conta è il risultato tre punti meritata non meritata vittoria veramente soffertissima ma paura la sono portata a casa e nulla da dire in questo momento sono secondi in classifica tra poco gioca gioca l'inter alla mezza e vediamo comunque cosa succede poi il napoli alle tre per quanto riguarda ragazzi il crotone crotone spezia un crotone super che batte lo spezia per ben 4 a 1 4 pere vittoria strameritata lo spezia ha creato pochissime occasioni alla fine il risultato secondo me rispecchia l'andamento della gara risultato parla chiaro quattro pere allo spezia strameritata ragazzi hanno segnato praticamente messias doppietta simile non ha segnato ha fatto assist un attaccante del genere con lo spezia non segne strano e poi ha segnato reka e poi enrique enrique e poi il gol del dello spezia che aveva pure pareggiato il crotone nel primo tempo era andato in vantaggio aveva pareggiato lo spezia con con farias veramente un errore difensivo del crotone da serie d poi da serie d un altro po solo in aria solo in aria l'aveva pareggiata e poi il crotone comunque ha nel secondo tempo sicuramente ha ha dominato il largo e lungo quindi nulla da dire questi sono tre punti che comunque importanti per un eventuale salvezza però è ancora lungo per il crotone a cinque punti andando a torino dinese ragazzoli pure è stata una bella partita senza dubbio sto torino che con giampaolo ma già da inizio anno non mi convinceva sinceramente perché giampaolo dopo la samba non ha fatto un cazzo ragazzi sia al milan adesso al torino non mi convince come allenatore sinceramente infatti i risultati si vedono ha fatto soltanto una vittoria fino adesso ed è in zona retrocessione addirittura e ieri l'udinese ne ha fatti tre ne ha fatti di te e è stata una partita veramente maschia combattuta fino alla fine un torino che sicuramente non è che ha fatto schifo però ci si aspettava sicuramente di più è stata una partita no anche se ne hanno fatti due è stato pure protagonista pure belotti ieri questo giovane ragazzi bonazzoli che mi piace che mi piace al posto di quel bidone di zazza preferisco centomila volte bonazzoli che pure ieri ha dimostrato che è un giovane che può crescere infatti ha messo in mostra mostrando le sue le sue ottime qualità poi ragazzi pure depol ieri ha inciso ha inciso anche possetto ha inciso anche nestorowski l'udinese ha giocatori ragazzi che possono dare fastidio senza dubbio puzzetto in attacco l'unico bidone lasagna lì davanti che ce l'ho pure al fanta affanculo nestorowski pure un calciatore che può mettere in difficoltà qualsiasi squadra sono giocatori ragazzi non top player non grandi giocatori però belli tosti non è che fanno proprio schifo è giocatori che se tu li metti in una buona squadra riescono ad esprimere le loro le loro qualità quindi ripeto ottima partita ieri ricca di emozioni ma poi se l'è portata a casa l'udinese alla fine pure meritatamente quindi con un bel 3 3 a 2 per quanto riguarda l'ultima partita ragazzi la lazio che perde 1 a 2 ma io lo dissi la scorsa settimana la lazio quando gioca la champions è stanca e anche ieri si è vista la stanchezza caiseido non basta caiseido non basta addirittura c'è stato anche l'autogol di lazari che poi lazari si è salvato con un assist quindi il verona va in vantaggio nel secondo tempo pareggia pareggia caiseido e poi di nuovo 2 a 1 2 a 1 per il verona il verona ragazzi l'anno scorso vi posso dire una cosa ha dimostrato di essere una squadra temibile ha fatto un ottimo campionato l'anno scorso riguardando le aspettative e posso dire che quest'anno pure ragazzi mi stanno sorprendendo un verona che veramente pressa tutto campo una squadra veramente bella organizzata e non è facile comunque batterla sicuramente un verona che è bello organizzato e bello tosto bello tosto bello tosto infatti ieri si è visto questo verona quando trova di fronte una squadra stanca non non si smentisce non si smentisce e la porta a casa chi l'ha portata a casa con comunque una lazio che ripeto è sempre la lazio non è che una squadra veramente scarsa scarsa alla fine vittoria meritata lazio abbastanza stanca adesso si trova a 17 punti noi cercheremo oggi di portare a casa pure con la Sampdoria a meno di andare a più 6 speriamo bene speriamo bene e il verona si porta a casa tre punti importanti importanti per metà classifica poi vediamo nelle prossime giornate cosa succede e nulla ragazzoli io credo che non ci sia nulla da aggiungere mi vado a vedere l'inter mi raccomando supporto per questo video sempre solo forza napoli post partita dell'inter dopo è sicuramente quello del napoli ciao ragazzi